Ok, sono Marco Mazzaglia, sono presidente di T-Union, lavoro per due aziende, Mixed Bag e Sinesthesia, che si occupano ognuna a suo modo di sviluppo di app e sviluppo di videogiochi. Sinesthesia si occupa per quanto riguarda lo sviluppo di applicazioni mobile, quindi è un'azienda mobile first, mentre Mixed Bag sviluppa giochi per console, quindi PlayStation 4, Xbox, Switch, eccetera. Nell'intervento di oggi ho parlato di retro game e remastered, quindi un po' questa diversità che c'è nell'esplorazione del passato di videogiochi, in modo tale da riuscire un po' a spiegare questa tendenza, magari da parte delle grandi aziende, a riuscire spolverare, a riproporre in chiave tecnologica nuova diverse proprietà intellettuali, diversi vecchi giochi. Da una parte per dare a chi è appassionato di videogiochi un po' di notizie e spiegazioni che derivano anche dall'aspetto commerciale dei videogiochi. Invece per chi vuole diventare sviluppatore indie, l'obiettivo di questa conferenza è stato quello di poter tracciare, poter dare un'idea di come pensare il proprio nuovo videogioco, quello che tutti dicono il videogioco della vita, quando arrivano sviluppatori indie e ti chiedono delle cose e dicono, ah io ho l'idea della vita che sicuramente cambierà il mondo dei videogiochi e cambierà il mondo. Beh, insomma, magari non sarà proprio così, però se si aiuta a verificare e capire se veramente l'idea che uno ha è un'idea originale oppure è un'idea che traduce in un nuovo modo delle vecchie idee, perché no? Perché non dare allora degli strumenti per esplorare il mondo dei videogiochi del passato e fare in modo che il nuovo mondo dei videogiochi risulti essere veramente un passo avanti in quello che può essere la creazione di nuove idee e la creazione o la rivisitazione di nuove o vecchie tecniche di game design.